Estate Ragazzi 2016 è un progetto di nuoto estivo contro la dispersione scolastica. Mediterraneo Village e Comune di Tarento insieme per i giovani del territorio. Sì, è un progetto che arriva alla undicesima edizione, quindi è rivolto alle scuole del territorio che hanno tempo per segnalare i ragazzi che rientrano nell'ambito della dispersione scolastica. È un corso di nuoto che si svolge al Mottino, quindi noi siamo già pronti come Mediterraneo con i nostri tecnici per accogliere i ragazzi e si sviluppa dal 6 di giugno fino al 15 di luglio. Tutto ciò rientra nell'ambito della convenzione che la nostra struttura ha con il Comune di Tarento ed è in prosecuzione, è un'attività che già noi svolgiamo quotidianamente qui nell'ambito del progetto La scuola in acqua che vede al mattino presso la nostra struttura le scuole del territorio frequentare la nostra piscina. Quindi la nostra proposta è un'attività acquatica e in altri giorni, per altri tre pomeriggi, loro frequenteranno dei corsi all'aperto utilizzando i nostri spazi all'aperto.